L'impatto è assolutamente positivo, la consapevolezza che si tratta di una città assolutamente importante con delle dinamiche complesse e i programmi rispondono semplicemente ad un progetto chiaro che è quello del massimo impegno sotto il profilo della sicurezza. Questo è un punto che riguarda un po' tutto il territorio nazionale, quindi le dinamiche sono più o meno omogenee e nel corso della mia esperienza professionale ho dovuto affrontarle nelle varie sedi dove ho svolto servizio. Per cui il massimo dell'impegno, come giusto che sia, in termini di risposta alla cittadinanza. L'ultimo incarico che ho ricoperto è stato quello di capo della squadra mobile di Ancona, precedentemente sono stato capo della squadra mobile di Perugia e ho prestato servizio in Calabria, in Puglia, in Basilicata, in Piemonte, un po' in giro per l'Italia. Assolutamente sì, si tratta di personale, di uomini che svolgono il proprio lavoro con grande passione, e che godono di grande rispetto e prestigio proprio per i livelli di professionalità che riescono, sono riusciti a esprimere sempre. Un grande patrimonio di esperienza, un esempio da eseguire per la stima che universalmente circonda il collega e amico Marco Calì, per cui questo è sicuramente un punto di forza, partire da una situazione di conoscenza che il mio predecessore mi ha trasmesso. Grazie.